Salve a tutti una tecnica che voi potete vedere nei miei video e che è veramente eccezionale è la tecnica della crisi che potrebbe essere spiegata in termini quantistici come un quantum eraser significa informazioni del presente che vanno a cancellare informazioni del passato oppure spiegata con la teoria polivagale come un rilascio di informazioni bloccate a livello del nervo vago dorsale comunque sia la persona cambia e poi diventa più capace di fare delle cose e è importante qualsiasi operatore dovrebbe imparare la crisi perché la crisi può veramente cambiare la vita e ha sempre dei risultati positivi Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!